E' sabato, fa molto caldo, 35-38 gradi, ma sono ugualmente in giro per la città con il mio operatore video. Voglio verificare dal vivo tutte quelle segnalazioni relative alla invivibilità urbana che voi cittadini mi avete segnalato. Come dire, prima il dovere e poi il piacere. Avrò modo in questo weekend di rilassarmi, ma oggi, questa mattina, si lavora, si sudda, perché devo onorare e rispettare la fiducia riposta in me da 4.200 tarantini. Io non sono un consigliere seduto in poltrona o quelli che fanno i fighetti davanti al pc. Sono un consigliere di strada, mi piace verificare le situazioni e quindi verificare, denunciare ed intervenire per risolvere i problemi. Per ogni tipo di segnalazione potete contattarmi al mio numero al 339-240-4240. Lo ripeto, 339-240-4240. Vi risponderò direttamente. Cercherò di soddisfare tutte le esigenze, tutte le segnalazioni, però ovviamente nei limiti del possibile, perché non ho il dono dell'ubiquità. Quindi, che dire, un sabato di forte lavoro, di sudore, ma fatto con gioia, con piacere, con entusiasmo. È bello il contatto diretto con i cittadini. In ogni caso, buon weekend a tutti!